Nel segno della continuità, Michel Ferreira, uno degli attaccanti più gettonati della categoria Aera e Resta, un calciatore del Nardò. Voglio riconfermare le mie prestazioni, ma sicuramente portare questa società in alto. Questo è l'obiettivo nostro, l'obiettivo della società, che punta in alto. Quindi noi andiamo in questa mentalità, quindi per me è stato un piacere, diciamo che non sono andato nemmeno su altre opzioni, perché volevo stare qua, volevo portare questa città ancora in alto e quindi questo è l'obiettivo di questa. Il 28enne attaccante brasiliano e il Nardò hanno un obiettivo comune, vincere. La Serie C non è diventata realtà durante questa estate con la formula del ripescaggio solo per colpa dello stadio. I Neretini proveranno a conquistare il calcio professionistico sul campo, ripartendo proprio dalla vittoria dei play-off nel giorno H di Serie B. Abbiamo fatto un grande campionato l'anno scorso e la maggior parte del gruppo è stata rinconfermata. Poi soprattutto la società ha fatto un grande mercato, portano dei giocatori vincenti, giocatori importanti della categoria. Anzi, giocatori che comunque hanno fatto altre categorie e merito anche di giocare altrove, perché comunque ha fatto degli acquisti importanti. Quindi è normale che siamo comunque adesso una squadra che non è più una sorpresa, sarà comunque una squadra che cercherà di giocare sempre, di vincere tutte le partite. Ci sarà la pressione comunque, però siamo consapevoli di questo. Dieci gol per Ferreira nella passata stagione, uno alla mezza, nove da dicembre in poi con i Neretini. È rimasto lui, è rimasto D'Ambros. Sono arrivati D'Amaco e D'Anna, due che hanno vinto il campionato a Brindisi, oltre a Gentile e Melillo. Nicola Ragno, insomma, può contare su un attacco di notevole livello per la categoria. Voglio rinconfermare la doppia cifra, perché per un attaccante è importante, però abbiamo un grande gruppo, abbiamo rafforzato con i nuovi acquisti, quindi sicuramente ci sarà comunque una grande concorrenza, però mi trovo pronto. Voglio rinconfermare il campionato che ho fatto, sicuramente con delle prestazioni, con i gol, ma soprattutto cercare di vincere tutte le gare, sia in casa che fuori. Poi magari l'obiettivo personale viene in secondo piano.